Proprio qui, in questa valle, si narra di un popolo indomito, arrivato qui da molto lontano. Un popolo che sapeva aprirsi barchi ovunque, che trasportava forzieri con grandi tesori e celebrava ogni vittoria con pranzi loculiani. Un popolo di cui ancora oggi ci giungono reperti da ogni dove. Ancora più off-road, ancora più spaziosa. Nuova Mini Countryman, tua da 24.950 euro.